La sua veria continua ad essere punto di incontro nella cultura e avete voluto riorganizzare e ritornare con l'Università d'Estate proprio per incontrare gli uomini di cultura. Cos'è tutto questo? È un ragionamento su quello che la cultura può fare per i nostri territori e quest'anno abbiamo voluto tenere insieme il concetto di luoghi, quindi di territorio, di identità, di cultura, di tutto quel patrimonio, di saperi materiali e immateriali che la cultura di un territorio rappresenta e il futuro naturalmente. Cioè capire come i territori possono giocare una partita nel futuro, come territori marginali, possono essere protagonisti in un'economia che cerca sempre più le differenze, cerca sempre più il valore dell'identità. E tutto questo ha un nome che si chiama cultura, che se messa al sistema può dare un apporto importante. Lei è una persona che mette le proprie mani nella cultura perché la casa editrice Rubettino, prestigiosa casa editrice, lei ne è rappresentante massimo. Tutto questo, questi legami, il comune di Sovriamannelli, la biblioteca Michele Caligiuri e la Rubettino, insieme cosa possono rappresentare per la comunità? Lo sforzo è sempre quello di mettere a sistema più attori, più soggetti perché la partita del futuro si gioca naturalmente su più dimensioni e con diversi attori. Il tentativo è quello di far sì che diversi mondi stiano insieme, si parla del mondo delle produzioni, il mondo dell'istruzione, della scuola, il mondo della cultura, il mondo dell'economia, il mondo delle associazioni, tutto ciò che viene dal basso, dal sociale, sono tutti attori che servono per convergere verso un progetto, una visione di territorio, una visione di crescita. Quindi tenere insieme queste cose, ragionare insieme con tutti questi attori può essere solo positivo. Poi c'è il suo ruolo all'interno della Fondazione Italia Domani, come può contribuire anche questo? La risposta è la stessa, la Fondazione Italia Domani è uno di quegli attori che deve essere protagonista di questo percorso. Grazie. Grazie.